Anche in questo caso, primi due in finale, De Angelis, quando si imbocca in questo momento, De Angelis, Mene Gallo, 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 Partita la seconda serie, Entrano in trena, insieme, Si è successo un po' qualcosa, ma... Guarda l'uscita! Guarda, guarda! Dai, dai, dai! Da pronostico, poi Mene Gallo, Ceola e... Giù due neve, poi Salino, poi Cerlariello, Attenzione, Salino all'esterno! Ehi! Guarda! Salino, Roberto Salino all'esterno, Salino, Ceola, Neve, Cerlariello, è una bella, un gran soffasso di... Andrea Salino! Ceola e Salino! Un po' di... Ceola e Salino! Ceola e Salino! Come foundations, Salino! Noooo, Salino, Salino! Scanzardo! Molte volte, Salino! Quello... Saint Cola! è... Salino! Troispa, unグattone... Ti vuole, ti vuole un bel condominio.